Scordatevi Barbie e Oppenheimer, il 4 luglio è uscito nei cinema americani un film intitolato Sound of Freedom. Parla di un vero ex agente federale che ha lasciato il suo lavoro per salvare i bambini dai trafficanti di esseri umani in America Latina. Il film segue l'incessante ricerca di questo Tim Ballard per combattere questo crimine atroce e rendere giustizia alle vittime. Addentrandosi nella giungla colombiana, il protagonista mette a rischio la sua stessa vita per salvare quella dei bimbi. Insomma, un film che fa luce su un argomento che Hollywood troppo spesso ha evitato di trattare, il traffico di bambini a scopo sessuale. Protagonista del film è Jim Caviezel, lo avevamo visto anche nella Passione di Cristo di Mel Gibson, e che ha attaccato il governo diverse volte negli ultimi tempi su questi importanti argomenti. La pellicola è stata più volte accostata a teorie cospirazioniste, lo stesso ex presidente Trump l'ha definito il film del momento in qualsiasi parte del mondo, nonostante sia uscito solo negli Stati Uniti. Anche Elon Musk ha offerto gratis il supporto di Twitter per incentivare la promozione e la distribuzione di questo film. Dietro questo film c'è la casa di distribuzione indipendente Angel Studios. Ha comprato Sound of Freedom dalla Disney lo scorso anno, tra l'altro il film è stato girato addirittura nel 2018, quindi anche prima della pandemia. È la stessa casa di produzione che ha fatto la serie TV su Gesù Cristo, ve la ricorderete sicuramente The Chosen, di cui si sta parlando tantissimo. Gli incassi sono andati bene anche perché Angel Studios sta provando una strada diversa rispetto a quella che è la canonica vendita dei biglietti. In pratica è un sistema di acquisto per terzi, un'app ti permette di comprare il biglietto e ottenere un codice che puoi regalare a chi vuoi. In realtà non c'è alcun riferimento a teorie cospirazioniste all'interno di Sound of Freedom, ma è diventato celebre come il film che non vogliono farvi vedere. La Disney in un primo momento scelse infatti di non mandarlo in sala e di tenerlo da parte. Questa decisione ha sollevato da subito i sospetti di una parte dell'opinione pubblica americana che accusa il Partito Democratico e l'elite di ignorare il traffico di bambini per scopi sessuali. Ma che cosa dice questa teoria QA non? È una teoria secondo la quale ci sarebbero poteri occulti che agirebbero contro Donald Trump e i suoi sostenitori. Se ne parlò anche nel 2021 quando i sostenitori di Trump presero d'assalto il campidoglio americano, partita online dalla piattaforma 4chan e poi diffusa anche su Reddit, QA non si concentra sui messaggi inviati da una presunta talpa dell'amministrazione americana con un ruolo molto importante negli affari di Stato, chiamato per l'appunto Q. Secondo i sostenitori di questa teoria la cospirazione avrebbe impedito a Trump di smascherare un giro internazionale di satanisti pedofili, con al centro i poteri finanziari, attori e produttori di Hollywood, nonché i leader del Partito Democratico, tra cui Hillary Clinton e Barack Obama. Questo Q sosteneva di essere un importante funzionario dell'amministrazione Trump e i suoi post, oltre a descrivere la teoria complottista, secondo i suoi seguaci contenebbero messaggi nascosti da decifrare per sostenere Donald Trump nella sua lotta contro i poteri occulti del Deep State. Queste teorie sono sbarcate ben presto anche su Facebook e Twitter. Secondo un'inchiesta interna raccontata da NBC, ad agosto 2020 erano milioni i sostenitori della teoria del complotto e migliaia ai gruppi le pagine. Facebook ha rimosso alcune di queste pagine, gruppi oltre a profili personali. Sempre nell'estate 2020, Twitter ha annunciato di aver chiuso 7000 account che diffondevano le teorie e ha spiegato che avrebbe continuato il suo impegno per limitarne la diffusione. Tra l'altro in questi giorni ci sono state alcune celebrità che hanno appoggiato l'uscita del film e hanno invitato a vederlo, tra cui gli stessi Jim Caviezel e Mel Gibson. In un video che sta girando sui social si vede il faccione di Denzel Washington con la scritta questa è l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, aggiungiamo noi. Nel video che dura una ventina di minuti non si vede mai Denzel Washington, ma si sente una voce che narrava come l'attore fosse infuriato contro Hollywood per aver boicottato il film. In realtà il video era stato fatto utilizzando l'intelligenza artificiale. Molti utenti infatti hanno commentato strano che in venti minuti non si veda mai la faccia di Denzel Washington quando ha detto queste cose, ci dovrebbe essere anche un video, no? Altri invece dicono che non c'è nessuna intervista o uscita pubblica o dichiarazione di Denzel Washington su questo film. Nel video si fa riferimento al fatto che effettivamente Denzel Washington nel 2016 disse ai giornalisti di rendersi la responsabilità di dire la verità. Le immagini sono state aggiunte e poi incollate insieme a quelle di un'intervista di Mel Gibson che promuove Sound of Freedom. Non è la prima volta che su YouTube vediamo video in cui vengono messe le facce di Matthew McConaughey o Mark Wahlberg per parlare a sostegno di Sound of Freedom. Non c'è nessuna prova attualmente che questi attori si siano espressi a favore del film. Ma quando uscirà Sound of Freedom in Italia e dove potremo vederlo? Al momento non c'è una data ufficiale ma siamo convinti che possa arrivare entro l'autunno anche perché se ne sta parlando un gran bene negli Stati Uniti e siamo convinti che anche in Italia ci saranno tantissime le persone che lo vorranno rivedere dopo averlo visto probabilmente in lingua originale sottotitolato. Ma voglio sapere voi cosa ne pensate? Ditemi la vostra nei commenti se vi è piaciuto, se lo avete visto e cosa ne pensate di questa teoria più e non. Iscrivetevi al nostro canale YouTube c'è accazione, seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni parliamo di cinema e serie tv. Al prossimo video!